Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele. Washington ha voluto mostrare la propria solidarietà nei confronti di Tel Aviv con la visita del segretario di Stato Anthony Blinken ad appena cinque giorni dall'attacco terroristico di Hamas. Il governo americano tuttavia ha chiesto a Israele una risposta proporzionata. Durante l'incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu, Blinken ha portato un messaggio chiaro di sostegno alla nazione ebraica. Non dovrebbe essere forti, suoni, 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 ma se non dovrebbero essere mai avanti. Abbiamo sempre dovuto essere qui, suoni. Hamas dovrebbe essere tratato proprio come l'Israele. Deve essere spettati dalla comunità delle nazioni comuni. No leader dovrebbe incontro, no paio dovrebbe farbare, e quelli che lo dovrebbero essere sanciati. Blinken ha confermato che sono almeno 25 cittadini statunitensi uccisi negli attacchi di Hamas. Questo venerdì incontrerà il presidente dell'autorità palestinese Muhammad Abbas, che finora è rimasto in silenzio senza commentare nell'offensiva partita da Gaza nella risposta di Tel Aviv.